Una puntata speciale di Polifemo in cui ci occuperemo del fenomeno della xylella, questo batterio che sta comportando la morte, l'abbattimento di numerosi ulivi in Puglia. Ho al mio fianco Luigi Botrugno che è un tecnico di laboratorio biologico e chimico chiamato l'antica saponeria del Salento e il signor Botrugno che viene dalla provincia di Lecce, la salutiamo, da Castiglione Castiglione ha presentato e ha ottenuto anche una validazione scientifica di un particolare trattamento, lo dico in parole povere, poi lui in termini tecnici spiegherà il trattamento, spiegherà il concetto, un trattamento con un particolare tipo di sapone applicato a questi ulivi. Voglio precisare, voglio sgomberare il campo da possibili equivoci perché qualcuno stupidamente o ingenuamente, in maniera appunto non consapevole potrebbe pensare che siamo dinanzi all'ennesimo caso di Vanna Marchi, come potrà dire qualcuno? Curare e salvare gli ulivi col sapone? Qualcuno potrà ridere o qualcuno potrà pensare all'ennesima truffa. Il motivo per cui il signor Botrugno è qui e per chi mi sono documentato è perché esiste un'attestazione universitaria, quindi un'attestazione scientifica della bontà e dell'efficacia del trattamento. Ognuno può inventarsi qualunque sistema, però poi esiste il vaglio della scienza, delle realtà dei comitati scientifici che dicono se quel trattamento è una bufala o viceversa è un trattamento efficace. Nella fattispecie il trattamento verificato da una università è stato ritenuto adeguato. Signor Botrugno, intanto cominciamo col dire, spiegare meglio, che cos'è questa Xilella? Certamente. Prima, se mi è concesso, naturalmente perché voglio assolutamente porvi i miei più veramente sentiti ringraziamenti. Perché? Perché mi state dando l'opportunità di avere un sacrosanto diritto che io pensavo in Italia fosse alla portata di tutti, invece non è così, che è il diritto di replica. In questi giorni una delle parole più chiacchierate del mondo quasi è stata proprio sapone, subito dopo la famosa votazione in Senato. È stata portata alla ribalta perché doveva essere sminuito il comportamento politico di un senatore nostro della Repubblica. Il senatore Ciampolino. Qui vogliamo scindere la vicenda del voto al governo Conte rispetto alla vicenda dell'Axilella. Assolutamente, però era doveroso questo piccolo escursus. Perché? Perché voglio ringraziarvi. Ma è lei in prima persona perché ha avuto l'acume e l'educazione proprio di documentarsi e di dare la possibilità ad una persona che da sei anni sta cercando in tutte le maniere di venire a capo di questa situazione, di dire la sua. Io sono titolare di una impresa individuale, la Luigi Abate Production & Communication, che è una impresa libera, che non è asservita a nessuna forza politica, né ai poteri forti, né ai complessi industriali. Sono per la verità dell'informazione e quindi nel momento in cui lei, come qualsiasi altro cittadino, ha da porre all'attenzione, alla ribalta un problema, se questo, se quanto si dice, ha un suo riscontro, come nel suo caso ha, con la realtà, ben venga, questo spazio è suo. La ringrazio infinitamente. Allora, possiamo tornare anche tranquillamente... Ecco, diciamo, cosa è la Xilella? Io ho detto un batterio, però lei mi spiegherà meglio. No, ma assolutamente, ha proprio centrato il problema nella sua importanza. Appunto è una fitopatologia che è provocata da questo batterio e che nel suo ciclo vitale va a distruggere man mano la pianta di olivo, in questo caso. Anche se, disgraziatamente, è stato già appurato che non solo la pianta di olivo può essere attaccata da questa, diciamo, fitopatologia, ma anche tantissime altre specie. E con immenso orgoglio, lo potremmo anche vedere dai risultati che li ho fatto vedere durante i nostri, insomma, sguardi ai video e non, sono riuscito ad ottenere, con la mia creazione, appunto, dei risultati spettacolari. Che è, fino ad un po' di tempo fa... Un particolare tipo di sapone applicato agli olivi. Certamente. E il nuovo olivo che cos'è? Il nuovo olivo è semplicemente, come appunto qualcuno si è divertito a dire, un sapone. Certamente, è un sapone... Il nuovo olivo è questo prodotto che è in grado di bloccare l'avanzare della xylella. Benissimo. Però cerchiamo di fare un po' di sana chiarezza, così almeno mettiamo i puntini su lei. Come stavo appunto dicendo prima, perché capisco che parlare semplicemente di sapone, così come è stato fatto, diciamo, in questo periodo... E riduttivo e offensivo. Oltre riduttivo e offensivo, può risultare assolutamente forviante. Perché è stato fatto passare che un sapone per le mani, come anche personaggi, questo poi mi ha fatto più male, personaggi di primo piano, tipo Salvini, tipo Renzi, addirittura Bruno Vespa, nel parlare di sapone e offendere il comportamento del senatore che parlavamo prima, mimavano il gesto della spugnetta. Ma, voglio dire, è possibile mai che una persona vada a lavare gli olivi con la spugnetta? Una domanda va fatta. E soprattutto quello che mi ha fatto più male è la mancanza poi, da parte loro, di documentazione. Perché, come anche loro stessi hanno detto in pubblico, basta andare a vedere su internet. E trovano che nel maggio 2019, io sono stato nell'aula Nasseria del Senato, per fare una conferenza stampa e parlare dei miei risultati. Ecco, facendo un passo... Perciò non è che, mi scusi signora Abate, non è che stavamo parlando per forza di un sapone comprato al minimarket per lavare gli olivi. Bastava semplicemente seguire i loro stessi consigli, andare su internet e vedere di che cosa stavamo parlando. Prego, mi dica. Ecco, dicevo, come è nata... Allora, lei ha visto questi olivi morire, ha visto questi abbattimenti impietosi... Anche se quando, mi scusi se la interrompo, quando ho cominciato sei anni fa ancora gli abbattimenti... Non c'era, benissimo. Allora, diciamo, come è nata l'idea... Ecco, questa idea di... E come ha pensato che questo particolare tipo di sapone, volgarmente... Questo particolare tipo di trattamento, volgarmente... Questo sapore, questo nuovo olivo, chiamiamolo così, riusciva a bloccare l'avanzare del batterio. Come giustamente lei ha detto prima, io sono un tecnico di laboratorio chimico e biologico. Perciò, diciamo, sono andato ad attingere nelle... Così, in tutte, nell'ambito delle sue conoscenze... Nelle mie conoscenze scolastiche, sia in campo chimico, sia in campo biochimico, sia in campo microbiologico, Le conoscenze che poi mi sono servite per cominciare a progettare il nuovo olivo. Come arginare il batterio. Ma la cosa che lo ha reso così particolare è strettamente legato alla mia attività, ossia l'antica saponeria del Salento. Nasce praticamente questa antica saponeria perché ho, diciamo, avuto, tramandato, un sapere erboristico, che voglio ricordare a tutti è una scienza a tutti gli effetti, è saponiero molto particolare. Che però dava origine soltanto a, diciamo, la produzione di saponi naturali per la cura della pelle, dei capelli, della casa, insomma, prodotti mirati. Io cosa ho fatto? Ho semplicemente unito questi due mondi, ossia il mondo scolastico, da dove appunto con la chimica, la biochimica, la microbiologia, e il mondo saponiero ed erboristico li ho fusi insieme e sono riuscito ad ottenere questo tipo di prodotto. Perché dico ottenere questo tipo di prodotto? Perché l'ho progettato. Sono partito da zero, praticamente prendendo, che cosa? Degli estratti, perché il nuovo olivo è un prodotto completamente vegetale, completamente naturale, di origine vegetale. Sono degli estratti vegetali, appunto, come stavo dicendo prima, di varie specie botaniche, che poi, ecco perché viene chiamato sapone, vengono esterificati con un mix di oli. E qui c'è una cosa che veramente dovrebbe, e io sempre questo dico, dovrebbe lasciare essere fatti. Questo mix di oli vegetali, che poi vengono esterificati o saponificati, ecco, per usare un termine più fruibile a tutti, e il principale, diciamo, il principale olio di questi mix è proprio l'olio di oliva. Perciò dov'è la cosa così particolare? Che l'olio di oliva va a recuperare la pianta da quel prodotto. Ecco. È la natura che va a recuperare la natura stessa. Quindi lei ha avuto questa intuizione. Bene, però mi perdoni perché è un passaggio molto importante, da che cosa, diciamo, è diverso da tutti gli altri saponi. Tutti questi estratti naturali, che io vado a prendere in natura, no, di origine vegetale, sono tutti estratti che hanno praticamente delle comprovate attività antibatteriche. e uniti insieme, naturalmente con quella maestria che le stavo parlando prima, e soprattutto con una tecnica di estrazione molto particolare, ecco che noi otteniamo un prodotto completamente naturale, che ha degli effetti spettacolari sulle piante. Ecco. Ora, andiamo, quindi questa è stata l'idea, l'intuizione, lei ha realizzato questo prodotto. E fin qui va bene. Ovviamente per verificarne l'efficacia, per far sì che, io mi metto nei panni del telespettatore, che questa non fosse una truffa, non passasse per una truffa, e che quindi avesse una sua validazione scientifica, lei ha seguito il percorso e ha ottenuto delle autorizzazioni, dei riconoscimenti, da chi e come. Benissimo. Prima di arrivare a questo, però, voglio anche sottolineare un'altra cosa. Per quanto una persona è convinta di quello che fa, non va soltanto a trattare degli alberi nello sperduto posto X di chissà dove. Io ho avuto il coraggio di andare a chiedere l'autorizzazione nel trattare degli alberi pubblici a Lecce. E sono lì. Vivi e vecchi. Assolutamente, sotto gli occhi del mondo. Ed erano malati prima. Certamente. Sotto gli occhi del mondo. La cosa più bella qual è? In questa rotonda che io tratto, gli alberi sono spettacolari. E sono lì, torno a ripetere. A fianco a 20 metri, gli stessi alberi sono secchi. Perché quelli purtroppo non li ho trattati. Ora, le rispondo alla domanda che mi hai fatto prima. Un po' l'iter delle validazioni scientifiche. Ho sottoposto questi miei risultati, perché non era soltanto l'idea, ma a quel punto erano dei risultati veri e propri, tangibili, all'Università di Bari. Aldo Moro. Praticamente sono stati presi, e anzi addirittura anche gli alberi di Lecce sono oggetto di sperimentazione. Certamente sì. e praticamente ho portato, diciamo, questo professore a vedere questi risultati e con tanta intelligenza e veramente con le lacrime agli occhi, mi deve credere, signor Abbate, con le lacrime agli occhi, ha immediatamente abbracciato... Come si chiama questo professore? Il professor Bruno. Professor Bruno. Assolutamente, anche perché per me rimarrà sempre... Certo. Quindi ha riconosciuto il professor Bruno Ha riconosciuto effettivamente l'efficacia di quello che si vedeva, rimanendo stupito, e ha cominciato l'iter negli anni, perché per arrivare a questa pubblicazione che è stata fatta su Crop Protection, che è una rivista internazionale, cioè stiamo parlando che per poter ottenere questo, come qualsiasi altra pubblicazione, i risultati sono stati anche vagliati da altre persone, non soltanto da chi lo ha fatto. e appunto abbiamo cominciato questo cammino insieme, facendo le giuste, insomma, le giuste analisi... Tutto il percorso richiesto. Benissimo, riportando tutto ciò che veniva fatto su quegli alberi e la cosa più bella qual è? Che non solo abbiamo recuperato il verde della pianta, ma siamo tornati a drupa, cioè siamo tornati a frutto. E questi alberi... L'albero è tornato nella sua pienezza. Pienezza. E in questi alberi, no? Questi alberi che appunto sono stato oggetto di questo studio scientifico, sono immersi in centinaia e centinaia e centinaia di ettari di olivi completamente secchi e dove l'ho invitato a venire di persona a vederli. Vedrà con i suoi occhi. Cioè non c'è un albero verde. In pratica l'elemento, laddove appunto c'è stato il trattamento, con il nuovo olivo, con questo, con il suo trattamento, gli alberi si sono salvati. Laddove invece il trattamento non è stato applicato, gli alberi sono tristemente... La cosa però importante da dire è che la pillola magica non è che esiste. Sia chiaro, come in nessun caso al mondo la pillola magica esiste. Per ottenere questi risultati c'è anche da seguire un iter dei consigli, dico io sempre, dei consigli che possono le buonissime e ormai, mi perdoni se lo dico, dimenticate pratiche agricole. Ecco, allora, vedo tra le carte anche un qualcosa del Ministero, per lo sviluppo economico. Questo è stato, diciamo, il primo passo della mia prima festa. Sì. Attestato di brevetto per invenzione industriale. Sapone naturale, all'olio di oliva ed erbe, ad erso fitologico. Cioè abbiamo praticamente... Se qualcuno, ripeto, vuole sparlare, c'è un attestato del Ministero dello Sviluppo Economico. E' un sviluppo economico. Così come, se qualcuno vuole parlare, abbiamo parlato della Crop Protection, e quindi a livello internazionale c'è anche questo. Questo per farvi dire che non è tornata Vanna Marchi. Benissimo. E così almeno cerchiamo di ristabilire laddove sia possibile un po' d'ordine. Ora io mi domando, mi domando. Bene, un trattamento che all'inizio poteva sembrare ridicolo, folle, però alla fine il trattamento si è rivelato efficace. Tanto che il docente universitario, il professor Blu, e poi il Ministero dello Sviluppo Economico hanno proceduto in senso ovviamente positivo. Quindi il trattamento ha avuto un suo riconoscimento universitario, ministeriale e quant'altro. Ora domanda. Sì. La Regione Puglia vede morire tanti alberi e vede un pazzo, tra virgolette, lo dico simpaticamente, come lì, che si presenta. Allora io fossi nell'assessore all'agricoltura, fossi in Emiliano, per curiosità direi, vediamo chi è questa persona. Ma se questa persona mi porta degli attestati e gli attestati sono veri e effettivi, io perché io Regione, io assessorato all'agricoltura, non considero questo trattamento? Posso azzardare una risposta, anzi proprio cavalcando quello che è successo in questi giorni? Prego. Per non essere ridicolizzati così come è successo a quel senatore che mi ha portato. Ciampolino. Allora vediamo un po', quali sono stati i suoi passi, i suoi contatti con la Regione? Allora, in Regione lo conoscono tutti il nuovo Livo. Lo conoscono tutti. Quindi anche Emiliano. Sì, sì, ne ho parlato anche di persona. E cosa ha detto Emiliano? Vedremo. Sempre così dice. E vabbè, vedremo. L'ho invitato mille, mille volte anche a vederli di persona agli alberi. Viene a Lecce puntualmente. E vabbè, ha preso tempo. Così stanno le cose. E attualmente, ora con la nuova giunta regionale, da circa due mesi c'è l'assessore Pentassuglia. Io spero di ottenere, quanto meno, ma non voglio niente, anzi, e questa è una cosa che mi deve permettere di dirlo pubblicamente, perché in sei anni e in centinaia e centinaia di alberi ripresi, risultati pazzeschi ovunque, sperimentazioni, notti insonni, passati a migliorarlo, a progettarlo all'inizio, a fare tutto quello che bisognava fare, non ho mai ricevuto un centesimo da nessuno. E questo lo voglio dire a gran voce. Ecco, però, ora io... Perché già pure qualcuno si era permesso il lusso di insinuare il fatto che forse io avevo ricevuto, non ho ricevuto niente da... Io sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ecco, io quello che dico a questo punto, tu Emiliano, tu Pentassuglia, state vedendo questi alberi che stanno morendo, l'abbattimento di questi alberi, e c'è un trattamento che ha avuto delle validazioni scientifiche. Se non ci volete credere o non siete convinti, posso anche capirlo, ma almeno ascoltate e verificate e mettete alla prova. Io fossi in Emiliano o nell'assessore Pentassuglia, chiamerei il signor Botrugno e direi, caro signor Botrugno, questi dieci alberi li dovrei abbattere, vediamo cosa sei capace di fare a trattarli. E qui apro anche un'altra parola. Ma il negare proprio la possibilità di essere ricevuti, il negare la possibilità di ascoltarla, mi fa pensare tante cose. Apro una piccolissima parentesi, anzi due. La prima è collegata al fatto che in regione e non solo, e non solo, perché posso dimostrare che questo studio scientifico è stato mostrato anche a livelli più alti della regione, senza aver ottenuto lo straccio di una parola di... ma neanche un... va bene, ci... no, mi è stato detto, vediamo. Poi è tutto sfumato. Non c'è stato nessun appuntamento. Non c'è stato nessuno, anzi, ho solamente per questo tempo, per un mese, sia io che, disgraziatamente, anche il professor universitario, perché il professor Bruno si era messo a disposizione per venire con me a relare, a relazionare, mi perdoni, su ciò che praticamente avevamo ottenuto. Caro Presidente Emiliano, caro Assessore Pentasuglia, il signor Botrugno potrebbe essere un folle, ma un docente universitario di una certa fama non è un pazzo. Quindi come mai non avete preso proprio in considerazione l'ipotesi di ascoltare il signor Botrugno? che io stavo per fare, perché poi con il senno del poi dici, ma veramente chi è che te lo faceva fare, a fare una cosa del genere? Io ho messo a disposizione questo, mi dovete credere. L'attestato di brevetto per l'invenzione universitaria. Io ho detto il brevetto lo metto a disposizione della regione, fate Vobis. Quindi non aveva nessun interesse proprio... Fate Vobis, nel senso io mi metto a disposizione per migliorare la situazione, ve lo do, realizzatelo. Io non c'è un'industria, mi metto a disposizione per metterlo in atto, insieme. Va bene, io, signor Botrugno, le dico questo, io contatterò sia il Presidente Emiliano, sia l'assessore Pentasuglia, manderò questa trasmissione alla loro attenzione, questa trasmissione andrà in onda in televisione, su Telesud, Taranto Brindisi Lecce, con lo streaming si arriva ovunque in tutto il mondo, ma sarà sui social, ma voglio proprio inviarne una copia diretta del video di questa trasmissione a Emiliano e a Pentasuglia, perché voglio capire per quale motivo non la prendono in considerazione, almeno sapere perché. Il perché? Uno dice non voglio ascoltarti perché, allora io sapremo il motivo per cui... Ogni no deve essere motivato, se loro hanno delle motivazioni per cui ritengono una caricatura questo trattamento, è bene che lo dicano, ma se considerano come caricatura questo trattamento, evidentemente devono considerare anche come caricatura la scienza e la professionalità del Professor Bruno, devono considerare come caricatura, lo facciamo vedere di nuovo questo attestato della Crop Protection, e devono considerare anche evidentemente che al Ministero dello Sviluppo Economico ci sono dei pagliacci, cosa che non credo sia possibile. Un'altra cosa che mi ha scandalizzato in tutto questo periodo, anche se a che cosa è stato, allora mettiamoli in questa maniera, io la scuola la vedo come un oasi, anche se magari quando ci andavo più da giovane, come tutti, e a scuola io pretenderei per mio figlio, un figlio di dieci anni, che gli insegnassero, è vero, tutto ciò che sono le basi, no? Assolutamente. Però mi piacerebbe che ci fosse qualche insegnante, appunto, che infonda nei ragazzi una cosa importantissima, lo spirito di ricerca e lo spirito scientifico. L'ansia di sapere, di scoprire. No, di scoprire che cosa è servito in tutti questi anni ascoltare il terrorismo mediatico in televisione, sui giornali, alla radio, ovunque. Anche i media, giornali e TV non si sono... Assolutamente, ma lì ho anche altro da dire. E' l'unico, e per questo ci ho tenuto tanto a ringraziarla. Lei mi stavo dicendo, lei mi deve dire a cosa è servito, sentire dire soltanto, non si può fare niente, dovete morire. Allora, lei immagini se un messaggio del genere fosse stato propinato anche per quello che stiamo vivendo oggi in tutto il mondo. Ma anche perché, voglio dire, nel momento in cui gli alberi stanno seccando e stanno morendo, morire per morire, dico, vediamo, applichiamo questo trattamento che, ripeto, ha una sua validazione scientifica. Certamente. Questo è il fa. Allora, signor Botrugno, io ho avuto il piacere di ascoltarla, avrò il piacere di venirla a trovare. Certamente. Magari facciamo anche il proseguio di questa... Eh, certo, no, no, ma infatti non finisce qui questa storia. Anche perché io volevo anche sfondare una porta aperta nella sua comfort zone. Così come si dice, no? Il nuovo olivo, come la mia azienda, l'antica saponeria del Salento, dovrebbe essere un fiore all'occhiello dell'intera nazione. Un'eccellenza da valorizzare. Per quale motivo? Tutti parlano, ecco la sua comfort zone, di green economy, di economia circolare. A parole ne parlano. Di ecosostenibilità. Di sviluppo ecocompatibile. Sviluppo ecocompatibile. Ecosostenibile. Se io le faccio vedere come si producono i miei prodotti, come si produce il nuovo olivo senza discostarci tanto, lei deve immaginare che gli scarti di produzione possono essere triturati e usati come un concime naturale. Quindi a impatto zero. Zero. Gli ingredienti dei miei prodotti sono ingredienti inesauribili. Perciò non è che viene fatto come i saponi normali di scarti petroliferi. Che finisce il petrolio e abbiamo finito anche gli scarti. No, è addirittura un prodotto che partendo dall'olio di oliva va a risistemare l'albero di olivo. Cioè stiamo proprio a recuperare la pianta della vita. È la natura che dà vita a se stessa. In questo circolo virtuoso. Che cosa c'è più di economia circolare di questo? Della natura. Lei sa, signor Botrugno, le mie battaglie per l'ambiente. Eh, lo so benissimo. Per la difesa della vita, le mie battaglie contro l'ilva, contro chi uccide. E il mio amore immenso per la natura. Certamente. E poi un'altra cosa importantissima che magari preso un attimo anche dall'emozione. Prego, prego. Mi sono dimenticato di dire. Il nuovo olivo. Fa tutti questi, diciamo, ottiene tutti questi risultati sulle piante. Senza l'utilizzo di nessun tipo di fitofarmaco o pesticida. È un prodotto completamente naturale. Quindi, dicevo, io ho una predisposizione per la natura. Perché il nostro territorio dovrebbe vivere di mare, di turismo, di agricoltura. Delle risorse che madre natura ha dato. Certamente. E quando si riescono a salvare delle vite, perché per me ogni pianta è un essere vivente, e lo è, e a questo punto se c'è una possibilità di salvare queste vite, perché non lo facciamo? Certamente. Quindi, signor Botoggi, noi ora ci lasciamo qui. Io nel frattempo, nel frattempo, in questi giorni, divulgherò il video, contatterò Emiliano e Pentassuglia. Le ringrazio infinitamente. Veste di Presidente di Regione e di Assessore, ma non solo, quando avrò modo di vederli personalmente e di intervistarli, anche se parlassero della Juventus che fa la rincorsa per vincere lo Scudetto, io parlerò di questo argomento. Io sono un tipo che non mollo la preda. La ringrazio infinitamente. È un dovere da figlio di questa terra. E la invito ufficialmente a venire a fare un giro con me. Verrò con piacere perché amo la natura e io mi sento a casa mia quando sto in campagna con gli alberi e con la natura. Emiliano invece quando stava a darselormittale all'Ilva diceva mi sento a casa mia. Evidentemente io ed Emiliano abbiamo delle case diverse e del modo diverso di vedere la vita e il futuro. Anche perché io ho due veramente grandi aspettative da questa intervista. La prima è che finalmente la stupida ilarità che mi ha anche arricchato un sacco di danni, sappiatelo, sappiatelo. La stupida ilarità sul sapone finisca e penso che siamo stati abbastanza esaurienti su questo. La seconda è anche un'altra perché effettivamente poi confrontandomi ogni giorno con tanti piccoli proprietari terrieri che vengono da me nella speranza di rivedere in vita i propri alberi, mi pongono tutti lo stesso problema. E ne approfitto un minuto per gettare anche questo input. che vengano aiutati da parte della regione anche i piccoli proprietari terrieri. Non solo chi ha migliaia di alberi ma come nell'80-85% dei casi nel Salento e io parlo del Salento perché li conosco, quasi uno a uno ormai, hanno non più di 40-50 piante che vorrebbero ripristinare, che vorrebbero avere lo stesso diritto che hanno chi ne ha di più. Perciò questo è un altro input da lanciare in regione. Signor Potrugno questo è un arrivederci perché noi come detto non moleremo la presa e non moleremo la prida e vediamo se la regione Puglia vorrà ascoltare. Certamente. Conoscendo il mio modo di fare, che sono abbastanza rompiscatole giornalisticamente e civilmente parlando, per carità, io pretendo delle risposte e le risposte le pretende anche la collettività pugliese. Ma mi accontento anche che Emiliano motivi, dice perché io non credo in questo trattamento, per questo, e poi ci si può confrontare, ma almeno sapere perché, ma rifiutarlo a priori è assurdo, no? Sembra infatti... È assurdo, è incredibile, ascolta e poi dici per me questo è un trattamento inefficace per me perché è questo, al che gli dirò, scusi, ma evidentemente il professor Bruno non penso che sia un ubriaco e il Ministero dello Sviluppo Economico non penso che si ubriachino, quindi voglio dire, va bene. Anche perché c'è anche un altro illustre professore, il professor Cariddi, che ha, diciamo, fatto il... Quindi voglio dire, stiamo parlando di eminenze del caro. Stiamo parlando di persone... Autorevoli. Perfetto. Bene, signor Botugno, la saluto e alla prossima. Viva la natura, viva gli ulivi della nostra pubblica. E grazie con tutto il cuore. Grazie a lei. Grazie a tutti.